Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video voglio parlarvi di un personaggio che ha avuto un ruolo importante nella serie e che avrà un finale sorprendente, Adnan Yaman. Prima di iniziare, vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un like per supportarmi. Adnan Yaman è cresciuto affrontando numerose avversità che hanno colpito la sua famiglia, ma è stato in grado di trasformare le sue esperienze in un film che racconta la storia della sua famiglia. Il suo percorso di vita è stato segnato da numerosi rapimenti e dalla perdita del padre biologico Ilmaz e del padre adottivo Demir, ma grazie all'amore ricevuto è riuscito a superare le difficoltà. In seguito, Adnan ha studiato cinema in Inghilterra e grazie alla sua bisnonna ha potuto approfondire la conoscenza della storia della sua famiglia e realizzare il film, Addis, che racconta la storia della madre Zulia e delle persone che l'hanno vissuta. La bisnonna di Adnan è stata una delle donne più longeve di tutta la Turchia e gli ha trasmesso le testimonianze di epoche passate, compresa la storia di Annine. La serie Terra Amara ci ha regalato un finale emozionante e sorprendente grazie anche alla presenza di Adnan Yaman, un personaggio che ci ha fatto riflettere sulla forza dell'amore e sulla capacità di superare le difficoltà. Cosa ne pensate? Lasciate un commento qui sotto e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video.